Buongiorno, sono Vincenzo Ternevali, sono qui in mese di formatore per Skillab, oggi stiamo tenendo un corso di stesura dei budget commerciali, in realtà il corso si rivolge alla stesura del budget in modo più allargabile. Partiamo da contenuti che riguardano l'analisi strategica e il posizionamento dell'azienda, cerchiamo di coniugare una preparazione accademica con le singole realtà aziendali che intervengono e cerchiamo di calare questi strumenti nelle realtà e nelle singole aziende con degli esercizi di applicazione nell'ambito delle loro quotidianità. Il corso non tiene conto esclusivamente di aspetti commerciali ma evidentemente di aspetti strategici che riguardano il marketing, il posizionamento aziendale, il posizionamento atteso e gli strumenti necessari per costruire un vantaggio competitivo per ogni singola azienda. Vantaggio competitivo che dovrebbe tradursi in una realtà voluta, in un obiettivo raggiunto e una pianificazione delle attività aziendali quotidiane.